La Belvedere si svolge quest'anno a Mendrisio in quanto risulta essere un territorio con una storia. Il Veloculum Mendrisio è fondato nel 1901 per cui una società di 116 anni. È una manifestazione non competitiva quindi che si svolge su due tracciati, uno di 30 km e il secondo di 60 che si svilupperà poi proseguendo dopo aver compiuto l'anello dei 30 km. Il Veloculum Mendrisio prevede delle soste di rifornimento con dei prodotti enogastronomici locali a chilometro zero per cui ci saranno degli assaggi di vini locali dei produttori. Andremo nelle cantine, nei vigneti di questi produttori, ci fermeremo lì e si potranno saporare anche dei prodotti, dei salumi nostrani, dei formaggi, il miele, tutti i prodotti che dà la nostra terra del Mendrisiotto. Oltre ai partecipanti con le biciclette storiche avremo la possibilità o abbiamo l'intenzione di invitare tutti coloro che possiedono una bicicletta quindi dalle mountain bike alle bici normali da corsa non storiche e le bike. Il programma della Velvedere inizia il sabato con una serata, con un concerto di Sebalter, di McPlane, accompagnato da una cena con prodotti a chilometro zero. Ci sarà anche una sfilata di biciclette storiche e i partecipanti che parteciperanno la domenica potranno percorrere un breve giro che faremo qua nel Nucleo con le loro biciclette storiche.